Grazie a tutti. La questione di questa mattina è che ci sono tutta una serie di tecnologie che hanno raggiunto un buon livello di maturità sia per quanto riguarda il solare termico e fotovoltaico sia per quanto riguarda l'impiego del vento e le pompe di calore che hanno per ora una penetrazione sul mercato abbastanza limitata. La domanda che bisogna porsi è quali ostacoli vanno rimossi per questa rimozione. Certamente c'è un aspetto economico, quindi il sostegno da parte di incentivi tariffari o fiscali è una leva importante. C'è sicuramente un aspetto culturale, cioè bisognerebbe arrivare a far percepire al pubblico in generale che l'efficienza energetica e la compatibilità ambientale è in qualche modo un dovere civico, come è già in alcuni paesi europei. E infine c'è un problema di competenze dell'utente e degli operatori. In questo certamente sia l'università, sia le associazioni di categoria e sia realtà come Centro Studi di Galileo possono svolgere un ruolo più notevole perché l'efficienza energetica implica complessità di impianti, complessità di sistemi. Quindi sistemi che vanno gestiti con un livello di conoscenze pratiche, anche pratiche, superiore a quello degli sistemi convenzionali. Appunto lei parlava di Centro Studi di Galileo che quindi fa un lavoro di formazione perché è importante la formazione e la comunicazione. Sì sicuramente, molto spesso gli operatori del settore energetico vengono da esperienze diverse, si sono in qualche modo lanciati in un mercato nuovo ma non sempre hanno una preparazione adeguata. Questo vale anche per organizzazioni di grandi dimensioni che hanno una notevole capacità magari a acquisire lavori e a gestirli. Ma poi nella catena che c'è a valle spesso ci sono dei buchi, insomma delle insufficienti competenze e quindi il ruolo della formazione secondo me è essenziale. Se dovessimo pensare al futuro, quale sarà il futuro delle energie rinnovabili? Ma diciamo che va visto in un contesto più ampio di razionalizzazione della catena energetica. Quindi questo è stato detto anche questa mattina, bisogna innanzitutto partire a eliminare tutti gli sprechi. Dopodiché si può pensare di sfruttare a pieno l'energia, le fonti rinnovabili. Negli edifici quindi bisogna pensare di fare degli interventi di miglioramento dell'isolamento, sostituzione di componenti di cattiva qualità. E poi certamente fotovoltaico e solare termico hanno ancora delle grandi potenzialità di sviluppo. Sulla scala più grande della generazione elettrica direi interessante il tema dei sistemi a fluido organico, ORC, Organic Ranking Cycle, di cui si è parlato questa mattina. perché permetterebbe di sfruttare ai fini della produzione di energia elettrica delle risorse tipo la geotermia che fra l'altro in Italia sono presenti in misura rilevante, oltre che a recuperare calore di scarto ad esempio da processi industriali e altri cascami termici che normalmente non vengono sfruttati. Grazie mille. Grazie mille.